I lavori al ponte alle porte di Porto Corsini sul canale Baiona stanno creando alcuni disagi alla viabilità con coda e semafori che si formano in attesa di attraversare l'infrastruttura che ora può essere percorso unicamente a senso unico alternato. Le code diventano evidenti soprattutto nel weekend quando le auto lungo via Baiona possono arrivare anche fino allo stabilimento Marcegaglia. Un disagio che la comunità dei lì di nord ha paura possa notevolmente incentivarsi durante le prossime settimane quando aumenteranno i turisti e tutti quei ravennati che durante l'estate preferiscono trasferirsi al mare pur continuando nella loro vita lavorativa quotidiana e quindi chiamate ad andare e venire da Porto Corsini e Marina Rovea continuamente. La questione è stata affrontata anche in consiglio comunale. I lavori al ponte sul canale Baiona sono stati consegnati lo scorso 15 febbraio e sono iniziati a marzo. L'intervento rientra all'interno del percorso di monitoraggio dei ponti del territorio del Comune di Ravenne prevederà un secondo intervento anche sul ponte sopra la canaletta Eneva. Complessivamente la durata dei lavori sarà di 13 mesi. Il progetto definitivo è stato approvato nel dicembre 2019. I lavori rientravano nel piano. Investimenti è sempre a dicembre, sono stati inviati all'area territoriale del mare per un confronto e un parere poi risultato favorevole. Con una durata prevista di 13 mesi, inevitabile che all'interno del periodo di lavori ricadesse anche almeno un'estate. Per 5 mesi i lavori riguarderanno il ponte sul canale Baiona, 140 metri per 5 campate. Poi per 4 mesi i lavori verranno portati avanti contemporaneamente sia sul ponte del canale Baiona sia sul ponte della canaletta Eneva, 2 campate per 60 metri. Durante questi 9 mesi i ponti saranno aperti alla circolazione con un senso unico alternato regolato dal semaforo. I veri disagi inizieranno nella seconda fase quando per 5 mesi la circolazione sarà chiusa al transito di ogni mezzo poiché entrambi gli impalcati verranno sollevati. La Giunta ha già fatto sapere che purtroppo una soluzione alternativa non era possibile. Aspettare ulteriormente prima di intervenire poi poteva rappresentare un rischio poiché ai lavori, che comunque sarebbero durati 13 mesi, avrebbero potuto interessare due stati. L'unica via alternativa per raggiungere lì di nord è la Romea. Già oggi, con il semaforo in funzione per il senso unico alternato, i tempi di percorrenza lungo via Baiona e lungo via Romea sono praticamente gli stessi.